Così, io, non potendomi mettere a fare il cascamorto come costuma in questi anni smammolati, sono deciso a riuscire scellerato, in odio a questa stagione troppo allegra, ordito con plotti, offerto spunti al delitto con profezie, sogni e calogne d'avvinazzate, per mettere l'uno contro l'altro in odio mortale, mio fratello Clarenza è re, e se è vero che il re Doardo è un davvero uomo schietto leale, quanto io sono tortuoso, falso e traditore. Si dovrebbe vedere questo Clarenza ad oggi chiuso in un duro cancere, per una certa profezia, la quale dice che sarà la lettera G a massacrar gli eredi di Edoardo. Tuffatevi giù nel fondo dell'anima pensieri, Clarenza è qui. Grazie a tutti.